Buongiorno e buona domenica a tutti. Spero che stiate passando una buona giornata. Io oggi sono un po' raffreddato, sono un po' così, ho avuto una notte un po' difficile e quindi non sono nello studio, sono qui in casa al caldo, tranquillo per recuperare l'energia e niente di che, probabilmente sono un po' di raffreddore, un po' sapete quelle cose che per fortuna sono le uniche che mi colpiscono perché io godo mediamente di ottima salute grazie al cielo e così come capita a chi è sempre sano quando arriva un leggerissimo fastidio, gli sembra che il mondo crolli addosso e che sia una situazione terrificante, in realtà niente, soltanto un po' di riposo oggi però non volevo perdere l'occasione per parlare con voi della partita di domani e di una cosa che ho letto ieri che secondo me può essere interessante sempre così nell'organizzare una serie di riflessioni, quelle che piace fare a noi qui. Quindi oggi facciamo da questa stanza questo video con questo sfondo bianco che diciamo non aiuta chi non è particolarmente vivace dal punto di vista del colore, soprattutto nella giornata in cui non si sta molto bene, ma insomma portate pazienza. Siamo alla vigilia della partita con lo Spezia, abbiamo ascoltato le parole del nostro mister in conferenza stampa, è tornato anche sul tema dell'approccio alla gara con il Genoa, ha parlato anche di mercato, nel senso che ha detto un po' le cose che ci siamo detti noi negli ultimi giorni, cioè come disse quella, chi era un allenatore, prendere uno qualunque per fare del qualunquismo, era una cosa di mai dire gol, non prenderemo gente a caso, prenderemo gente mirata per il nostro progetto. L'ha detto anche oggi, l'ha ribadito in conferenza Pioli, io aggiungo se prenderemo qualcuno naturalmente, vedremo, vedremo, le cose di mercato interessano il giusto. Quello che ci deve interessare oggi secondo me è la partita, la partita di domani. La partita di domani contro lo Spezia, un avversario sulla carta assolutamente alla nostra portata, nonostante le assenze, nonostante un centrocampo improvvisato e poco propenso a farci stare tranquilli, come quello formato da Baccaiuk e Krunic, però non dobbiamo partire con lo spirito di dire ecco, li abbiamo già crocifissi, li abbiamo già condannati, sono già sicuro che faremo una pessima partita domani. Non è così, lo Spezia è una squadra che si sta barcamenando in questa stagione dal mio punto di vista, anche bene nell'ultimo periodo perché comunque ha vinto a Napoli, seppur diciamo in condizioni particolarmente fortunate, ma ha vinto a Napoli. Poi ha vinto a Marassi con il Genoa, giocando meglio rispetto alla gara del Maradona e dimostrando comunque di, come dire, essere sulla strada giusta per trovare una dimensione. Tiago Motta ha avuto problemi, poi è stato messo spesso anche sulla graticola, te ne vai, ti mandiamo via, ha licenziato, eccetera, come è accaduto tra l'altro ad Andriy Shevchenko che è stato esonerato dal Genoa dopo la miglior prestazione con il Genoa. Quindi, vabbè, insomma, sappiamo che però da quelle parti, come dire, c'è una certa frenesia, nonostante il cambio di proprietà, nonostante non ci sia più preziosi, ma hanno evidentemente quella tendenza, o probabilmente, anzi, sicuramente, c'erano cose che noi non sappiamo, che rendevano impossibile proseguire insieme. In ogni caso, tornando allo Spezia, non è una partita a sottovalutare, ma non è nemmeno una partita, diciamo, per la quale non possiamo fare a meno di certi giocatori. Penso che quelli che ci saranno potranno essere sufficienti, se, come ha detto Pioli, giocheremo come sappiamo, vinceremo. Chiaramente, per giocare come sappiamo, c'è bisogno anche di certi giocatori, che che ne dica Enrico Sacchi, però c'è bisogno anche dei giocatori per giocare come sappiamo, perché altrimenti, come dire, le soluzioni si restringono. Ieri, a tal proposito, leggevo in un sito, che poi un giorno vi faccio vedere, quando torno nello studio e ho i dispositivi tecnologici per farvi vedere delle cose. È un sito molto interessante di statistiche, di statistiche molto dettagliate sui principali campionati, sui singoli giocatori, appunto sui tornei, e guardando quello della Serie A, ad un certo punto mi sono soffermato sulla capacità delle squadre di giocare il pallone lungo, cioè del lancio lungo, percentuale riuscita rispetto ai tentativi e tutte queste cose qua. Ne emerge, chiaramente, forse non serviva nemmeno andare a leggere la statistica per capirlo, ma in ogni caso l'ho fatto perché mi piacciono queste cose, emerge che il Milan è una squadra che non ha la propensione a giocare sul lungo. Chiaramente questo è dettato dal fatto che il nostro gioco si deve sviluppare in un certo modo, ma questo è anche dettato dal fatto che non abbiamo giocatori che sanno giocare sul lungo. Se andiamo a guardare le statistiche, in generale il Milan è, diciamo, poco sopra la metà dal punto di vista dell'elenco delle squadre della Serie A per quel che riguarda la precisione dei passaggi sul lungo, ma anche i tentativi di passaggi fatti sul lungo. E il giocatore da noi che ha completato il maggior numero di passaggi lunghi, sapete chi è? È Mike Mignano. Quindi, diciamo, il nostro giocatore migliore dal punto di vista di questa soluzione, di questa idea, di questa possibilità di gioco, è il nostro portiere. Poi dopo c'è Tomori, poi dopo che Pioli spera di recuperare in giro di poche partite, poi vado a memoria, poi dopo credo ci sia Ben Nasser, ma insomma non ho gran che. Non è una colpa, naturalmente, è una soluzione che manca. L'Inter ad esempio a Brozovic, che è nei primissimi posti tra i calciatori per il gioco sul lungo, tanto per fare un esempio, in una classifica dove i primi posti sono quasi tutti, a parte appunto Brozovic, che è un'eccezione, sono tutti occupati da difensori e anche da qualche portiere. Comunque, diciamo, è un'alternativa che ci manca, non adatta certo a partite come quella di domani, non adatta certo a partite come quella che dovremo giocare domani con un centrocampo Krunic-Bakaioko. Io credo però che, e ritorneremo a parlare di questa cosa, del gioco sul lungo, credo che dovrebbe essere un'alternativa che sarebbe bello poter sviluppare nei prossimi anni, diciamo, cioè con o l'inserimento di qualche giocatore o anche un sistema di gioco un po' diverso, perché martedì pubblicherò qui la partita integrale tra Milan e Juventus del 2002-2003, quella che poi, diciamo, in quella stagione è poi finita a Manchester, del famoso se c'era, e lì vedrete, chi avrà il piacere di farlo, di rivedere la partita, vedrete come quel Milan, con quale il paragone è chiaramente improponibile in questo momento, ma voglio dire, come sempre, noi dobbiamo guardare quelli che sono più bravi o che sono stati più bravi, in questo caso ad esempio ce l'avevamo in casa, per capire come l'alternanza del gioco corto e del gioco lungo fosse un'arma spettacolare per quella squadra. Ma, insomma, è così, solo uno spunto di osservazione perché ieri guardavo questi numeri. Tornando alla partita di domani, ripeto, dal mio punto di vista è una partita alla nostra portata, nonostante le assenze, è una partita che possiamo vincere perché lo Spezia è una squadra che comunque regala qualcosa, che regala qualcosa, che commette degli errori, che ha in Bastoni, che è un terzino, che però fa anche un po' la mezzala e comunque gioca sulla fascia sinistra, l'uomo, diciamo, più in forma del momento, insieme a Verde, che tra l'altro ci aveva assegnato anche all'andata, e poi a provvedere il portiere, che è stato uno dei migliori in questa stagione, a riprova del fatto che comunque lo Spezia è una squadra che subisce nel corso delle partite. Però, ultimamente, gli è andato bene, gli è andata bene, gli è andata bene a Napoli, gli è andata bene a Genova. È una squadra che ha fatto, se non ricordo male, un punto in più in trasferta rispetto a quanti ha fatto in casa, nonostante in trasferta abbia subito molti più gol di quelli che ha subito in casa, è, diciamo, una squadra di bassa classifica che lotta per salvarsi con alcune situazioni che potrebbero impensierirci, ma io sono piuttosto tranquillo perché credo innanzitutto, come dicevo, che nonostante le assenze in Milan sia nettamente più forte dello Spezia. E, in secondo luogo, voglio rassicurarvi e rassicurarmi sul fatto che non si ripresenterà a breve un approccio come quello di giovedì. Punto importante, punto decisivo, secondo me. Il grande riprovero alla squadra della partita di giovedì è stato l'approccio mentale alla gara. Può essere che, come dire, la situazione della partita di Coppa Italia, la situazione dell'avversario, tutto quello che volete, ma non si deve ripresentare più. E secondo me non si ripresenterà più. È una sveglia che si sono presi i ragazzi e che aiuterà la partita di domani, aiuterà con le altre. Poi è chiaro che le due successive non hanno bisogno di grandi stimoli per prepararsi, per essere preparate, però in ogni caso io credo che domani non vedremo un atteggiamento di sufficienza e un atteggiamento fastidioso per chi guarda e vuole che Milan faccia, come sottoscritto e come tanti amici che mi seguono, faccia quel passaggio in più anche dal punto di vista mentale. Non dobbiamo prendere solo buoni giocatori, ma dobbiamo prendere buoni giocatori e fare uno step psicologico, uno step di obiettivi, uno step di consapevolezza che ogni partita va giocata alla giusta intensità, perché niente arriva per caso, niente arriva gratis e come si dice in economia non ci sono pasti gratis e non ci sono nemmeno nel calcio. Vi auguro una buona domenica, riposate, una cosa che farò anche io tra poco e ci sentiamo domani nel post partita della gara. Poi martedì la partita di cui vi parlavo prima, che presenterò integralmente qui su YouTube su rinaldomarelli.it eccetera e poi dopo anche martedì la compagnia della live alle 12.55, appuntamento naturalmente imperdibile con gli amici. Venite nel gruppo News, nel gruppo Telegram News, dove ogni giorno e anche sul mio profilo Facebook, ogni giorno ci sono appuntamenti con la storia del Milan. Oggi ce n'è uno particolarmente violento perché riguarda i nostri colori che vi consiglio di andare a leggere. Buona domenica.